Nella cantina di un palazzone, tutti i gattini senza padrone, organizzarono una riunione per precisare la situazione. Loro chiedevano a tutti i bambini che sono amici di tutti i gatti, un pasto al giorno e all'occasione poter dormire sulle poltrone. 44 gatti in fila dei sei col resto di due, si unirono con patti in fila dei sei col resto di due, coi batti alineati in fila dei sei col resto di due, le code a torciliati in fila dei sei col resto di due, 6 per 7 è 42, più 2 è 44. Naturalmente tutti i bambini tutte le code potevano tirare, ogni momento è a loro piacere, con tutti quanti gli occhere l'are. 44 gatti in fila dei sei col resto di due, si unirono con patti in fila dei sei col resto di due, coi batti alineati in fila dei sei col resto di due, le code a torciliati in fila dei sei col resto di due, 6 per 7 è 42, più 2 è 44. Quando alla fine della riunione fu definita la situazione, andò in giardino tutto il plotone di quei gatti di senza padrone. 44 chatti in fila dei sei col resto di due, le code a torciliati in fila dei sei col resto di due, coi batti alineati in fila dei sei col resto di due, le code dritte dritte in fila dei sei col resto di due. 44 gatti ci unirono con patti, coi batti allineati, Le code attorciliate 44 vati in fila dei 6 con il resto di 2 Marciarono combati in fila dei 6 con il resto di 2 Con i vaffi allineati in fila dei 6 con il resto di 2 Le code attorciliate in fila dei 6 con il resto di 2 Con il resto di 2 Grazie